ben tornati ragazzi sono giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi di calcio mercato lazio perché ci sono nuove notizie riguardanti gli acquisti e le cessioni del club bianco celeste partiamo dalla prima notizia perché la lazio sta per ufficializzare l'acquisto di rizza durmesi dal real betis civiglia per un costo di 6 milioni e mezzo di euro ripeto sta per ufficializzare non ancora ufficializzato perché ricordiamoci il calcio mercato non è ancora iniziato quindi così come per sprocati e proto questi acquisti verranno probabilmente ufficializzati al ridosso degli ultimi di giugno o al ridosso dei primi di luglio ecco anche perché prima di allora i contratti non possono essere depositati in lega rizza durmesi è un terzino sinistro molto simile all'axalt molto simile all'axalt io non mi sento di di commentare non mi sento di pregiudicare l'acquisto della lazio anche perché non l'ho mai visto giocare non l'ho mai visto giocare personalmente avrei preferito un l'axalt ma semplicemente per un fatto di conoscenza ragazzi semplicemente per un fatto di conoscenza perché giocando nel calcio italiano giocando nel campionato italiano scusate l'ho visto giocare molto spesso vedendo però alcuni video che rappresentano rizza durmesi in campo sinceramente non riesco a trovare molte differenze tra lui e l'axalt rizza durmesi è un terzino sinistro macedone credo molto veloce basso come l'axalt molto veloce con un buonissimo piede potrebbe battere sia i calci di punizione che i calci d'angolo anche se quello è un ruolo che spetta a lui salberto nella nostra lazio però a dimostrazione del fatto che stiamo parlando di un terzino sinistro che sa crossare finalmente abbiamo avremo un terzino sinistro che sa crossare a differenza di lukaku che non ne azzecca una e di l'unice che ogni volta che ha la palla tra i piedi se la sposta sul destro e una volta su cinque non becca la schiena del difensore io ragazzi lotito ovviamente ha scelto durmesi perché costa la metà di l'axalt non è una novità ma io mi fido di tare io mi fido di tare l'ultima volta che la lazio è andata a comprare in spagna a quella cifra 6 milioni e mezzo è arrivato luis alberto che nessuno di noi conosceva prima dell'anno scorso nessuno di noi conosceva luis alberto prima della finale di supercoppa italiana contro la juventus e poi sappiamo quello che si è rivelato essere nessuno di noi conosceva milinkovic savic prima che arrivasse alla lazio nessuno di noi conosceva stefan devrai prima che la lazio lo iniziò a trattare prima quindi del mondiale di brasile 2014 io mi fido di tare mi fido di tare perché se ci sono società che spendono 250 milioni e arrivano 8 punti dietro di noi ci siamo noi che non spendiamo più di 10 milioni per giocatore perché ricordiamoci la nostra rosa è composta da giocatori che non sono stati pagati più di 10 milioni nonostante ciò siamo arrivati quarti a pari punti con l'inter che comunque facciamo bene facciamo bene io mi fido di tare io continuo a fidarmi di tare perché ho sentito molte persone sparlare sparlare di acquisti come come sprocati e proto e io non capisco perché non capisco perché qualcuno di voi ha mai visto giocare sprocati o state parlando a bambera avete mai visto giocare sprocati tra l'altro sprocati ragazzi non è un vero e proprio acquisto sprocati non è un vero e proprio acquisto è un trasferimento da una squadra di lotito ad un'altra squadra di lotito questi due sono i futuri possibili per sprocati uno essere ceduto in prestito oppure come contropartita in un altro affare due giocare massimo cinque partite nella lazio da subentrato questi sono i due possibili futuri per sprocati quindi non iniziamo a definirlo un vero e proprio acquisto come per esempio lo è quello quello di proto quello di proto ho sentito ridire alcuni laziali anche su proto ma ragazzi che 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 tipo di portiere volete che ti che volete volete degea chi volete volete keylor navas la lazio ha bisogno di un secondo di stracoscia non di un portiere titolare ha bisogno di un secondo di stracoscia e proto secondo me potrebbe essere la riserva di stracoscia perfettamente è un portiere esperto non dovrà giocare più di dieci partite magari verrà impiegato nei primi turni di coppa italia oppure nei primi turni dell'europa league lui che tra l'altro gioca da anni in champions league titolare titolare in champions league quindi stiamo parlando anche di un portiere esperto ai massimi livelli e che ha sempre fatto bene nelle squadre dove ha militato chi volete cosa volete di più volete bizzarri che l'anno scorso ha fatto il caos cioè ragazzi bizzarri ha veramente fatto il caos guardate l'errore nel gol di luisa alberto contro di noi volete pagare sportiello otto milioni volete volete pagare l'ingaggio di casiglias che arriverà a sei milioni soltanto l'ingaggio cioè per favore bisogna essere coerenti bisogna essere obiettivi proto secondo me è un buonissimo acquisto potrebbe fare perfettamente il secondo di stracoscia stiamo parlando di un portiere affidabile lo so è un portiere affidabile perché gioca da anni in champions league e ha giocato sia nell'underlet sia nell'olimpia cose credo comunque abbiamo parlato degli acquisti di quelli che saranno gli acquisti di questa di questa finestra di mercato in attesa ovviamente di altri adesso parliamo delle cessioni perché c'è stato uno stop nella trattativa felipe anderson west ham tare apparentemente non è volato a londra per trattare con i west ham l'ultima offerta del club londinese era di 30 milioni mentre lo tito ne chiede almeno 40 allora io ho due opinioni al riguardo secondo me felipe anderson vuole restare alla lazio secondo me felipe anderson vuole restare alla lazio perché stiamo parlando di un ragazzo che che non ragiona in termini di soldi non è come come devrai e keita lui secondo me ragiona con la testa e col cuore la decisione iniziale di felipe anderson di lasciare la lazio partiva dal fatto che felipe anderson quest'anno è stata è stata una seconda linea è stata un'alternativa di di luce alberto il secondo di luce alberto quindi non ha giocato tanto quanto si sarebbe aspettato però secondo me in questi in questi ultimi giorni ha sentito l'affetto dei tifosi laziali che lo vogliono alla lazio lo vogliono alla lazio non lo vogliono non lo vogliono mandar via e felipe anderson secondo me ha sentito questo affetto attraverso i social media e secondo me ha cambiato idea questa è la mia prima opinione la seconda è che il west ham non può permettersi di spendere 40 milioni per il brasiliano secondo me il west ham non può non può davvero permettersi di spendere 40 milioni per comprare felipe anderson potrebbe anche iniziare a considerare diciamo qualche bonus qualche bonus però insomma è tutto da vedere tocca vedere ragazzi in caso di cessione di felipe anderson la lazio sta già pensando a delle alternative vi leggo questo articolo di calciomercato.it in attesa di definire il futuro in uscita di felipe anderson la lazio valuta le alternative alla sostituzione del fantasista brasiliano una su tutte stuzzica la fantasia del club bianco celeste quel papu gomez già nel mirino dei capitolini la scorsa estate l'argentino resterebbe un obiettivo sensibile per la lazio e stando alla gazzetta dello sport starebbe prendendo in considerazione la possibilità di lasciare l'atalanta nonostante un contratto in scarenza nel 2022 quindi tra quattro anni gli europici valuterebbero gomez non meno di 10 milioni di euro con il club di lotito pronto ad offrirgli un ingaggio da 2 milioni e mezzo più bonus secondo me ragazzi lotito 10 milioni per gomez gli spenderebbe gli spenderebbe ovviamente in caso di cessione in caso di partenza di felipe anderson perché gomez andrebbe proprio a ricoprire quel quelle diciamo quel vuoto no e bisogna vedere secondo me una cessione di felipe anderson sbloccherebbe tante trattative tra cui questa e anche quella di acerbi tocca alla fine il mercato del lazio girerà tutto intorno alle cessioni ragazzi girerà tutto intorno alle cessioni anche quelle di wallace bastos se accadranno nel frattempo la società bianco di resta continua a trattare wesley anche il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 10 milioni e secondo me la lazio potrebbe perfettamente spenderli però vi farò sapere la prossima settimana come procederanno queste trattative ecco intanto voi ditemi che cosa ne pensate mettete un like se questo video vi è piaciuto ragazzi iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto noi ci vediamo questa sera con il post partita di spagna portogallo io intanto mi godo marocco iran sta succedendo il caos ciao a tutti a dopo ciao 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 ciao